Ancora non chiarite le cause della morte del 46enne trovato ieri in via 25 aprile. Il corpo dell'uomo, AF, del 1976, è stato scoperto all'interno dell'ex deposito dei bus, frequente rifugio per il senza tetto. Secondo alcune indiscrezioni, non sarebbero stati trovati indizi che possano ricondurre a una morte violenta, ma al momento non vi è ancora stata una comunicazione ufficiale. Ieri, intorno ai 19, la macabra scoperta. Un'ambulanza del 118, allertata da una segnalazione, è intervenuta sul posto con l'aiuto dei vigili del fuoco che hanno aperto il cancello della struttura, un ingresso chiuso ma facilmente accessibile. Assieme a loro la Polizia di Stato per i rilievi del caso. A capire ora, in via definitiva, se il decesso dell'uomo sia stato dovuto a cause naturali.